A Mondonio, frazione di Castelnuovo Don Bosco dal 1929, il castello medievale dei Rivalba domina l'abitato e la piazza sulla quale si affaccia la graziosa chiesa parrocchiale in stile barocco. All'ingresso del paese troviamo la casa museo dove morì per un'epidemia di colera non ancora quindicenne San Domenico Savio. La sua era una famiglia umile, la madre Sarta e il padre Fabbro. Era il secondo di dieci figli morti per lo più in giovane età. Troviamo un altro luogo legato alla vita del Santo Ammorialdo, prendendo la strada panoramica che si inoltra sulla cresta delle colline verso Colle Don Bosco. Qui è visitabile la casa dove Domenico Savio visse per circa dieci anni e dove incontrò per la prima volta Don Bosco.